Siamo in un momento molto difficile per il nostro Paese. La cura Monti che sembrava dover aiutare l'Italia ad uscire dalla crisi in realtà non ha dato ancora tutti i suoi frutti. Noi oggi ci troviamo in Consiglio Comunale ad affrontare il tema dell'Imu, una tassa che non piace a nessuno, una tassa che va a colpire sempre le solite persone. È una tassa che noi dobbiamo applicare. Oggi noi abbiamo fatto una scelta in un momento di crisi per i cittadini, in un momento in cui arrivare a fine mese non è semplice, abbiamo fatto una scelta molto forte. I tagli, come detto, sono stati tanti e alla fine la nostra scelta è stata quella di non incidere sui cittadini o comunque di incidere il meno possibile, quello che ci era consentito dalla legge. Lo 0,4 per mille sulle prime abitazioni, lo 0,82 sulle seconde abitazioni e lo 0,76 sulle seconde abitazioni affittate. È l'1,06 per mille per tutte quelle che sono le abitazioni non affittate. Guardate, è una scelta importante perché noi abbiamo deciso di combattere il sommerso, di non incidere sulle famiglie già in difficoltà, di fare in modo che chi ha di più potesse pagare di più. Purtroppo non abbiamo potuto fare, come dire, molto di più perché in questo momento le leve che ci dava l'azione del governo non erano tante. Dico questo, noi in questi anni abbiamo ridotto il debito della nostra amministrazione di circa 30 milioni di euro. Questo vuol dire liberare spesa corrente per circa 8 milioni di euro. Se non avessimo fatto tutto questo oggi ci troveremmo a dover mettere delle aliquote molto più altre. Ricordo anche che l'IRPEF, l'addizionale IRPEF comunale, è una delle più basse d'Italia e questo è possibile grazie alla sana amministrazione che c'è stata in questi anni. La lotta agli sprechi, la lotta all'evasione fiscale, la capacità, diciamo, per quel che è possibile di far pagare di più chi ha di più. E ora è il momento però di andare oltre. È il momento di far pagare chi fino ad ora non ha pagato. La capacità di combattere ancora maggiormente l'evasione fiscale servirà per mettere a disposizione ulteriori fondi per chi in questo momento è più debole, per chi è marginato, dando la possibilità di utilizzare queste tasse che riscuote il Comune, a disposizione delle categorie più svantaggiate. Noi sappiamo che questo non è semplice perché i tagli che arriveranno dal Governo centrale saranno ancora maggiori. Ma una buona amministrazione, una capacità di conoscere i problemi del territorio, l'attenzione verso i cittadini ci porteranno per l'ennesima volta a raggiungere gli obiettivi prefissati. Tutto questo servirà per offrire una città i cui livelli di servizi sono tra i più alti in Italia con una tassazione tra le più basse in Italia.